e si amici di mitico snake lo avete notato sicuramente mi trovo all'aperto quindi sono in esterna e devo dire che questo sarà un video dinamico nel senso che parte del video sarà girato in esterna e parte del video sarà girato nel cosiddetto tra virgolette studio dove giro tutti i miei video allora l'avrete notato sicuramente cubo di rubic quindi questo sarà un video che entra a far parte della rubrica del mitico rubic questo video perché perché alcuni di voi nelle varie reti sociali mi aveva chiesto se portavo almeno una example solve sul canale ebbene sì io questa example solve l'ho girata e ve la voglio portare quindi direi di andare al banco subito dopo la sigla e se anche perché la example solve l'ho girata nel cosiddetto studio lavorativo ma subito dopo la sigla allora amici di mitico snake qualcuno di voi mi aveva chiesto di portare una example solve del cubo di rubic 5x5 oltre che a portare la soluzione sul canale allora eccoci qua cubo di rubic 5x5 disfatto completamente da rifare e vediamo un po come partire allora io principalmente quanto inizia cubo di rubic 5x5 prima inizia a comporre due centri opposti rispetto alla soluzione che vi ho portato e poi inizia a costruire tutti i centri e iniziando a costruire centri parto dai colori più vicini in questo caso parto dal rosso non perché mi piace anche perché utilizzo comunque il colore rosso per iniziare su qualsiasi cubo ma in questo caso vedo più vicini i colori rossi ok quindi cosa vado a fare vado già a portarmi questi due qua in basso quindi già li vado a mettere insieme ed ecco qua adesso vado a trovare gli altri quattro cubetti che mi consentono di completare il primo centro ok quindi sto andando a completare il mio primo centro e quello rosso ed ecco qua allora quasi ci siamo ecco qua costruito il primo centro adesso si va a costruire quello opposto ovvero l'arancione allora prestando sempre attenzione a non disfare quello rosso già completato allora ok io andando avanti allora come potete vedere l'ho quasi completato mancano gli ultimi due allora questo centrale che deve andare qua quindi faccio così recupero questo cubetto arancio va in questa posizione quindi che faccio porto su allontano avvicino ed ecco qua o rosso e arancione adesso i due opposti li mettono a destra e una sinistra indipendentemente da che sia rosso o arancione e vado avanti a costruire e vado a guardare un altro un altro centro che abbia più colori vicini possibili in questo caso il blu che ne ha cinque quindi cosa faccio inizio già a portarmi tutti i colori perché in questo caso non abbiamo limitazioni se non ai lati ok quindi vado a costruire il colore blu il centro blu e vado subito a trovare i cubetti che mi servono vedete nello finire di costruire il centro non abbiamo limitazioni poi una volta costruito un centro siamo un po limitati allora vediamo un attimino io direi di andare a recuperare questo qua con questo qua quindi faccio così ho portato già un altro cubetto vado a recuperare questo con questo ed ecco qua adesso devo inserire questo giallo in uno delle due posizioni quindi lo metto per esempio qua vedete presta sempre attenzione al colore blu che ho costruito e vado a recuperare l'ultimo giallo che sta qui quindi cosa faccio in questo modo sposto avvicino sposto risalgo ok metto in posizione e carico mancano gli ultimi due centri ok si avvicino a lontano salgo porta in posizione e carico per esempio qua questa questa situazione qui quindi faccio in questo modo qua ok quindi recupero sia uno da questo lato e sia l'altro da quest'altro vado a recuperare questo a lontano metto in posizione e carico la stessa cosa questo porto su a lontano carico sposto vado a caricare e tiro giù e ho completato tutti e sei i centri adesso per come lo faccio io vado a costruire i miei spigoli che mi portano alla croce del primo strato inizialmente io parto sempre dal rosso ok quindi vado a costruirmi tutti gli spigoli del rosso avvicino questi due adesso inserita mod ok e vado a caricare quest'altro prestando attenzione a non andare a dispare completamente centri carico recupero e porto su e vado nuovamente a ricostruire i centri e carico lo spigolo della croce vado avanti vado avanti vado a recuperare per esempio questo qua giallo rosso che si ok recupero vado a recuperare quest'altro una volta durato lo vado a caricare ok porto su e vola e lo vado a caricare secondo spigolo della voce andiamo a terzo verde rosso eccolo qua manca l'ultimo quello centrale quello decisivo ecco qua l'ho portato nella parte alta perché se sta giù lo devo prima liberare metto in posizione carico libero e provato a sistemare manca l'ultimo cubetto ok l'ultimo spigolo scusate e adesso siamo un po più liberi nelle girare ok questo centrale poi mezzo metto in posizione ed ecco qua adesso lo posso già caricare se ho finito la la croce sul primo strato adesso la cosa che vado a fare e vado a formarmi quattro spigoli qua nella parte alta e certo sempre di non andare a dispare nei centri nella croce adesso per esempio vedo già questi tre cubetti giallo arancio 1 2 3 1 2 3 quindi 1 2 3 eccoli qua ok quindi li vado già a mettere in posizione in modo da caricarli ok uno è già copiato vado a copiare l'altro e eccolo qua tiro giù e come potete vedere già lo sapete i centri vanno a disfarsi porto su e carico con un altro spigolo non completo e vado comunque a completare gli spigoli per esempio qua vedo un giallo blu e vedo già due cubetti giallo blu qua in alto quindi cosa faccio li preparo li carico ok li accoppio porto su e recupero un altro spigolo non completo restando sempre in setup vedete giallo verde ne vede un altro qui quindi porto già in posizione vado a recuperare un altro giallo verde che quello centrale ok recuperato porto su carico uno spigolo non completo e tiro giù ok andiamo avanti e vediamo un attimino come procedere per esempio blu arancio blu arancio ne vedo un altro qua sopra quindi cosa vado a fare sistema accoppio e tiro su e come potete vedere nella parte superiore abbiamo già completato i quattro spigoli restano quelli la nella parte centrale quindi io cosa faccio adesso metto due spigoli della parte centrale sulla parte superiore ecco qua allora ritengo tutti nella parte superiore e vado a vedere un po come lavorare per esempio arancio bianco arancio bianco quindi cosa faccio lo metto in posizione vado ad accoppiare e controllo che qua sopra ci sia uno spigolo non completo per sostituirlo ok sostituisco tiro giù e ritorno alla posizione originaria la stessa cosa la faccio con questo qua verde bianco verde bianco lo tengo qua quindi posso accoppiare ok accoppio sostituisco con questo spigolo non completo tiro giù e sistemo nuovamente i centri adesso vedo che qui ci sta metà dello spigolo arancio verde già formato un altro cubetto lo tengo qui quindi utilizzo la mossa che consente di farmi accoppiare questo con questi due così e vediamo un attimino ok nessun caso di parità e da qui possiamo andare avanti con qualsiasi metodo io per esempio perché mi segui da un po già lo sa che io non sono molto pratico del sifop quindi non è che lo sappia utilizzare bene ma mi sto allenando anche per quello ecco per esempio qua io non conosco questo algoritmo sull'oll quindi mi avvago del to look o l l casa abbastanza facile adesso nemmeno qua conosco questo algoritmo che mi consente di fare pl l quindi faccio nuovamente un to look per andare a sistemare gli angoli due le vengo già messi a posto due no quindi utilizzo l'algoritmo ed ecco qua e questa qui è una semplice uperm 1 2 e 3 e la eseguo nel modo frontale e ho finito il cubo allora ragazzi eccoci qua siamo ritornati in esterna allora spero che questa example solve sia servita ad alcuni di voi magari potrebbe migliorare il vostro metodo di risoluzione sul cubo di rubik 5 per 5 sì ok adesso anche qua e come avete potuto anche notare io ho cambiato leggermente il metodo di risoluzione rispetto alla soluzione che vi ho portato qui sul canale youtube che devi spero che vi sia stato stata utile questa example solve e mi raccomando fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti fatemi sapere se vi è piaciuta e oltretutto lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché importante ci tengo vi ricordo di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate molto ma non solo con la condivisione quindi con le iscrizioni con i commenti un po con tutto e vi ricordo che sono anche su instagram che ho c'è la mitico se quello ricorda l'animazione ma trovate in link anche qua in basso in descrizione e non solo nella descrizione trovate tutti i link alle mie reti sociali che dirvi questo video finisce qua io ritorno ad allenarmi e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale youtube ciao ciao